ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video come vedete dietro di me è il nuovo prodotto di simu cube che è stato presentato oggi in anteprima anzi in premiere su youtube dopo circa 10 minuti di presentazione che non c'entrava nulla in quel video lì finalmente scopriamo tipo 27 secondi di video in cui ci annunciano una nuova arrivata in casa active pedal ed eccola qua è l'active pedal pro ragazzi e la quell'uscita prima quindi quella che vedete a destra active pedal il nome prende prende il nome quindi di active pedal ultimate e ha tutto un senso rispetto a quelle che sono le famiglie di simu cube cioè stiamo parlando di le basi simcube 2 sport e simcube 2 pro simcube 2 ultimate quindi mi aspetto che ci sarà un pedale di questo uscirà che ne so a fine anno probabilmente con che ne so active pedal sport e costerà di meno comunque come diceva è molto logico perché fanno sempre queste famiglie di prodotti in cui c'è il top non plus ultra per poi arrivare a quello che insomma quello con meno performante e quindi una riduzione di prezzo andiamo a vedere le caratteristiche di questa nuova pedaliera rispetto alla ultimate a questo punto in cui praticamente la identificano come simracer entusiasti di fare sim racing si chiama active pedal pro a 110 kg di pressione per quanto riguarda il freno ha un montaggio standard non ha il braccio aggiustabile e ogni pedale richiede il suo proprio alimentatore garantita tre anni contro a active pedal ultimate che propone 170 kg di pressione per quanto riguarda il freno si può montare invertita e ha il braccio aggiustabile per avere migliore ergonomia e per diciamo fare sim racing per formula e anche per hypercar tipo le manze eccetera ha un solo alimentatore che può essere diciamo utilizzato per alimentare più pedali e questo ha cinque anni di garanzia come potete vedere andiamo a vedere nel dettaglio la cosa più interessante perché parlano di riduzione di prezzo e andiamo a vedere di che cosa si tratta perché sappiamo benissimo che l'ultimate adesso ha un prezzo particolarmente alto lo sappiamo guardate un solo pedale per l'ultimate costa 2.378 euro più 81 centesimi più iva più la spesa di spedizione se andiamo invece a vedere il pedale singolo a questo punto costa solo 1640 euro e 34 più iva ovviamente le spedizioni se andiamo a vedere le combo due set di pedali costano della ultima che costano 24 mila e 293 euro in sconto di circa 200 e passa euro in questo momento più iva più spedizione contro due active pedal più l'eternet switch costa 3432 euro quindi c'è un risparmio di oltre 800 euro se in più voi prendete tre pedali qua addirittura 6 mila tre pedali ragazzi la frizione lasciamo stare qui non ve la propongono proprio però basterebbe fare aggiungere 1640 euro a questo quindi sarebbero 5000 euro invece di 6000 rimane sempre una spesa molto importante però insomma come vi dicevo rimane nella logica di simu cube di fare comunque degli articoli della stessa famiglia con appunto prestazioni ridotte e niente ragazzi io concluderei qui perché abbiamo visto le grosse differenze i prezzi eccetera poi ovviamente ci sono tutti gli accessori che potete aggiungere cioè vi lascio guardare ovviamente il sito ufficiale di simu cube io ragazzi l'avevo un po immaginata questa cosa qua infatti c'è nel video in cui ne parlo di questa novità top secret ho fatto senza volerlo una specie di easter egg se voi andate a guardare a un certo punto nel mio video ho fatto un gesto con la mano ok che non potevo farlo in modo palese però era la mia intuizione e devo dire che da un lato sono deluso ma dall'altro non lo sono vi spiego sono deluso perché mi sarei aspettato un prodotto nuovo qualcosa che spaccava proprio mi sarei aspettato una base sim cube 3 cioè ma questo nel mio immaginario da fan di questo tipo di hardware anche se so che la base costerebbe 4000 euro però il solo fatto di pensare che si possa ancora andare avanti in questa tecnologia è qualcosa che mi appassiona e dall'altro però sono contento perché così non sono obbligato a mettermi soldi da parte per comprarlo e vi posso tenere il mio sim più due pro buono buono speriamo però ancora tanto tempo comunque sono davvero contento che comunque ci siano questa novità l'hardware sta andando veramente tanto tanto avanti le aziende si fanno concorrenze e per questo motivo insomma ci sono queste novità e niente ragazzi se avevate in mente di cambiare pedaliera sim cube vi propone qualcosa di molto interessante certo non è economico bisognerà vendere un rene sicuramente però insomma è bene avere sempre questo tipo di novità ragazzi siete come al solito questa novità vi è piaciuta di simu cube pollice in su non esitate a dirmi quello che ne pensate di questo nuovo articolo active pedal pro e come al solito noi ci vediamo prestissimo ricordatevi iscrivetevi al canale da fabrizio è tutto un abbraccio ciao